Un saluto all'Italian Design Day nel mondo, un'occasione incredibile per parlare della qualità, della ricerca, dell'innovazione che il design italiano porta avanti grazie a un'industria creativa e manifatturiera che non ha uguali nel mondo. Il Salone del Mobile inaugura a Milano, in Fiera Ro, a partire dal 18 aprile. Sarà un'occasione incredibile per scoprire tutte le nuove tendenze del design, dell'arredamento. Quest'anno ritorna EuroLuce dopo quattro anni di assenza e lo fa con un layout e un concept completamente rinnovato, dove contenuti interdisciplinari faranno da sfondo e da supporto alle migliori proposte delle aziende dell'illuminazione più importanti. E poi, come sempre, l'arredamento, il complemento, il workplace, un mondo incredibile di imprese, di made in Italy e non solo, visitatori da tutto il mondo. Quindi vi aspettiamo a Milano a partire dal 18 aprile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.